Coniuga a gusto, sostenibilità e cultura e per il mare grande protagonista, Cala Lenta, l'evento promosso da Slow Food Lanciano in collaborazione con l'assessorato al turismo della regione Abruzzo, la Camera di Commercio Chieti Pescara, il flag Costa dei Trabocchi, il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, il Galma Iella Verde, il Comune di San Vito Chietino e l'Istituto Alberghiero Marchitelli di Villa Santa Maria. La manifestazione si svolgerà da venerdì 5 a domenica 7 luglio per le vie del borgo di San Vito Chietino, nei centri storici di Ortona e Vasto e naturalmente sui Trabocchi. Sono previsti incontri con grandi personaggi, tra i quali ricordiamo Oscar Farinetti e Massimo Cacciari, convegni per parlare di progetti su pesca sostenibile, aree marine protette e salvaguardia e valorizzazione del territorio, laboratori del gusto e degustazioni, mancabile mercato con le produzioni agroalimentari abruzzesi e lo street food con cibi di strada abruzzesi, senza dimenticare Cala Lenta Kids, riservato a bambini e ragazzi e un racconto che promuove la costa dei Trabocchi. Durante la conferenza stampa di presentazione l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo ha ricordato la valenza della manifestazione per l'intero territorio. Rappresenta tanto, tra l'altro cade in un momento importante perché all'inizio stagione temevamo che i Trabocchi non aprissero e avevamo questo danno d'immagine come Regione Abruzza, invece siamo riusciti a tenerli in piedi, è chiaro che poi adesso andranno riviste alcune situazioni. C'è soprattutto questo dato importante, mai un mare adriatico, mai un mare così pulito, gli ultimi dati di Arta mi sembra che sono più che confortanti, quindi presentiamo una manifestazione che è enogastronomia, ma soprattutto enogastronomia all'interno della costa e quindi coinvolge il mare, coinvolge il nostro pesce, il nostro meraviglioso pesce azzurro. Una manifestazione peraltro che conosco, sono dieci anni oramai che si festeggia, ma nasce nel 2004 quando io ero presidente della provincia di Chieti, ho seguito negli anni, a cui ho dato molto impulso quando ero assessore all'agricoltura e alla pesca e oggi vedo che è una manifestazione che lo stesso Slow Food e le ambienti certificano per la loro qualità, per la loro importanza in termini di sostenibilità ambientale.